Oggi la parola di Dio ci presenta una pagina drammatica della saga scrittura tratta dal libro dell'Esodo. Abbiamo Mosè che si trova sul monte a ricevere le dieci parole da Dio mentre il popolo si è allontanato, si è fatto un vitello di metallo fuso, un popolo che si allontana dalla sua parola, dalle sue leggi, ma stessa medesima situazione vediamo nel Vangelo di Giovanni dove addirittura Gesù cita Mosè perché anche infatti dice se infatti credeste a Mosè credereste anche a me. Quindi in fondo Gesù non è che nient'altro che il nuovo Mosè, colui che non credono. E giustamente perché questo popolo si allontana da Dio? Perché il popolo non ascolta Dio? Perché noi non ascoltiamo Dio. Che significa non ascoltare Dio? A volte ho paura che questa affermazione viene percepita come in modo astratto. Che significa non ascoltare Dio? Io non ascolto Dio quando non riesco ad amare le persone accanto. Quanto un marito non ama sua moglie. Quanto una moglie non perdona suo marito. Quanto non c'è quella sintonia tra genitore e figli. Quanto si è presi dai propri interessi. Ma cosa fa a far sì che ti ti dia quella quella gioia interiore e quella forza a sapere amare che ti sta accanto? Appunto è l'ascolto della parola di Dio e la sua sapienza. Sono le sue leggi, le sue parole. Ecco allora comprendiamo che ascoltare la parola di Dio non è qualcosa di astratto ma chi si sintonizza con la parola di Dio è colui che sa vivere pienamente la sua vita. Vuoi imparare a vivere? Vuoi imparare ad amare? Sintonizza il tuo cuore alla sua parola. Buon amissio.